Ciao a tutti amici di Youtube, oggi non ho mai fatto una cosa del genere e infatti ragazzi mamma mia ragazzi mamma mia oggi ho fatto una spesa paurosa ragazzi lo so solo io quanto ho speso vi lascio subito al video perchè non vorrei starmi a intrattenervi tanto però ragazzi è una cosa grossa che praticamente raga abbiamo raggiunto ogni limite immaginario su questo canale ho comprato adesso vi faccio vedere dal troni una ora vi faccio vedere che ho comprato perchè ragazzi non potete capire cosa ho comprato ragazzi cosa ho allora prima vi vorrei leggere un attimo questo bracciale che mi ha regalato un mio amico quindi grazie praticamente vi leggo perchè secondo me ci tengo tanto a leggervelo allora prendi in mano la tua vita e fanno un capolavoro quindi molto molto apprezzato molto ok proviamo prendo una cosa ok ragazzi eh ce l'ho qua ragazzi ce l'ho qua ce l'ho qua ok allora io non l'ho ancora scartata non l'ho nemmeno vista nemmeno vista e quindi c'è vista la cover si ma vabbè mi lascio al video ecco qua ecco qua ho comprato ora qua dentro c'è quello che ho comprato allora tiro fuori 3 2 1 ok ok mettiamo via mettiamo via il sacchetto e guardate ragazzi ho comprato una cassa tutta mia questa c'ha 25 watt 25 watt e apriamola insieme ho detto wow come ho fatto a così poco tempo ottenere una cosa del genere poi pesa ragazzi pesa e oh mio dio allora apriamola e vediamo cosa ci sta dentro se non ci sta dentro una ferite lasciate un bel pollice in su ok capire è della sony aspetta allora prima leggiamo cosa cosa ci serve come servirebbe anche un paio di foglie città che culo allora questa è waterproof and watt 12 ore in batteria 12 ore user delle anche vedete extra bass vuol dire che ha i bassi dentro e c'è guardate c'è ma manca il telefono ok adesso vado ad aprire mamma mia ragazzi mamma mia c'è guardate c'è bellissimo ecco devo fare piano e non ammarrano ho fatto la riva e poi dopo ecco ben dentro sta la scherzo devo starci eh eh ho detto ma proprio le devo chiudere non piano tutto tanto mi serve le forbici mi serve le forbici di certo che io vado a pigliarmi le non tagliano ok uff lo scattaggio dei pazzi dei pazzi dei pazzi dei pacchi mi era un sudore pazzesco allora lo volevo comprare su amazon ma no lo volevo comprare da cronica è meglio oh oh ragazzi uff top aspetta dovevo aprire madonna top no no ragazzi tengo tantissimo a questa eh della sony qua ci dovrebbero essere anche le istruzioni vabbè il caricatore normale non c'è più altro ok queste sono le varie istruzioni che cosa puoi fare con la cassa ovviamente ragazzi dopo la proveremo e stasera baccano baccano assurdo ma è bella ragazzi è bella ok magari non è proprio la scatola desidera iva ma si accende? no c'è anche le luci c'è nel buio aspettate aspettate spengo la luce perché ok vedete c'è la luce ok non parla come alexa vero? se non mi chiediamo ok ragazzi mi è cioè praticamente ho fatto la fase assurda per averla per soprattutto averla cioè guardate allora vediamo le istruzioni water ok quindi questa dovrebbe resistere all'acqua resistere resistere all'acqua la puoi portare anche in mare però state attenti ragazzi quando la portate in mare di non fare cazzate ok spero che questo video ma il caricabatterie nooo cioè sta qua il caricabatterie maduna che figata ok la volevo prendere semmai con il cametto però maduna ok già che ci sono scatto anche il carica sgardo scatto anche il caricabatterie perché fa figo dice così allora ragazzi no top 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 me la so comprata da solo cioè ho fatto tutto tutto da solo cioè anche bello lungo il cavo poi vabbè c'è anche quello del telefono quindi top ora lo mettiamo nel letto qua ok rega sono contentissimo perché è la mia prima la mia prima cassa che è cioè non lo so rega sono strabiliato usciranno tantissimi video con la cassa sperando di collegarla e fare tanti video se il video vi è piaciuto della sony cioè inciso ma vabbè questi servono per se la vuoi magari o attaccare vedete al muro ma non ci sta però la dovresti ok allora leggiamo un attimo un pochino di istruzione perché non ci capisco mai un cazzo di queste cose e vai fare mille libretti poi poi nello zaino dovrei avere anche lo scontrino però ora non c'ho voglia di andare a prenderlo la puoi connettere anche al computer cioè vedete la potresti la potevi connettere anche al computer allora qua c'è scritto light caricare ok cioè sono troppo sono troppo eccitato regà perché voi magari scrivete nei commenti appunto cosa ne pensate io secondo me una cassa del genere ecco secondo me una cassa del genere potevo potevo ottenermela ma non così regà non così è troppo non mi dico la cifra perché ho speso una sassata e ho speso veramente una sassata e quindi cioè grazie a tutti i miei risparmi ho riuscito a mettere da parte uno due euro e e cioè avere a casa questo bolli dei bolli dei come si dice spero che il video vi sia piaciuto ok la devo riattaccare perché sennò devo tenere la scatola una settimana perché sennò mi hanno detto devo tenere la scatola una settimana e ahhh si può anche caricare questa cosa insomma ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ora ma da parte magari in un elastico con queste carte perché non vorrei magari perderle se c'è un elastico non non proprio così dentro qui spero che il video vi sia piaciuto ragazzi commentate il video ok ho veramente sofrassato il limite siamo aspettate ma è cascata oddio ok non ci dovrebbe essere più nulla ma allora spero che il video vi sia piaciuto il mio video vi sia stato inutile ragazzi poi inutile perché ora posso cioè io le casse ne compro una ogni mese ok ma questa cassa qui c'è un mio amico che saluto tanto Rossi Tommaso ciao Tommaso Rossi ciao 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 ehm poi dopo mi ha consigliato appunto di prendere prendere questa perché costa una sassata però cioè io prima aspetta un attimo prima ragazzi ci avevo queste i video tani prima ragazzi ci avevo ah un bacino ci avevo buongiorno abbo funziona tutte e due ragazzi vuole tutte vuole qualcosa e prima ragazzi ci avevo questa che ma mio fratello per scherzo perché praticamente gli davo noia con la musea me l'ha lanciata ok questa ha fatto una brutta fine infatti se la accendo ora mi da dei problemi e questa rossa come questa e non mi scaricava più la batteria cioè stava praticamente ogni due minuti si scaricava e allora ho detto compro una cassa o non compro una cassa però ragazzi però ragazzi sono andato a vedere da tronico un altro mio amico che lui ha la macchina e saluto tanto Andrea Campi quindi salutiamo anche Andrea Campi e praticamente sono andato con lui e ma cioè ho detto mi sono sviluppo con i genitori per dirgli eh posso comprare la cassa alla fine ho detto no la voglio comprare con i miei soldi punto perché ragazzi cioè compro con i miei soldi una cosa che poi ripeto è costosa costosa sia dal punto di vista del di cosa ci hanno messo dei bassi di tutto e sia dalla qualità che c'è poi la sony cazzo ragazzi rispetto a altre marche tipo la la gbl e le altre la pose è forte ok la sony la sony però è molto vabbè ragazzi vi sto facendo un'intervista su Agass e praticamente ragazzi spero che il video vi sia di aiuto ok e sono contento ragazzi sono davvero contento perché cioè sto diventando anche rosso cioè più di così ok cioè poi è pesante cioè in confronto a queste due questa è più pesa cioè il peso è è più questa ok io nei prossimi giorni la proverò o già stasera la proverò perché sono curioso di sapere come faccio questa cassa se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su quattordici minuti di video ragazzi quattordici minuti sono davanti e lasciate un mi piace in su perché è sempre gratuito ci tengo particolarmente perché ci ho messo tutto il Natale solo per i risparmi e e per volere questa cassa o almeno un'altra però che funzioni ok questo è tutto ok un po' lunghetto sto video e poi con le luci c'è e con le luci top ti metti lì con mezzo alla spiaggia no vabbè lasciamo fare se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su che è sempre gratuito ragazzi non costa niente e buona a me buona cassa perché ecco buona cassa l'hashtag di quest'oggi è buona cassa perché buona cassa e ciao 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 ah ragazzi scusate ma mi sono scontato di dirvi una cosa l'uno febbraio e volevo fare un video con la musia però non ci sono riuscito ok quindi questo non sarà il sarà un video che però non uscirà il video che avevo promesso l'uno febbraio che sarebbe stato una bomba ma non ci ho avuto tempo di realizzarlo se questo è spolliciato se lo commentate lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e buona cassa a tutti ciao ciao